bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite racchiuse in pochi minuti beh ieri c'è stata la patch la 14.50 ieri mattina un po più di fatica per i ragazzi che giocano da ps4 ma è arrivata anche per voi e questa pace ha portato una ventata di aggiornamenti soprattutto però non ancora pubblici quindi sappiamo delle cose i bandoli in arrivo cosa succederà con il galactus la coppa di laklan e tanto tanto altro ne parliamo adesso ma prima di tutto volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta del nuovo bundle nuovo mica tanto perché in realtà lo conoscevamo già bene il bundle last love quindi l'ultima risata che va a chiudere la collana delle skin dedicate a batman nel bundle troviamo due delle tre skin appunto a tema la prima è il joker che qua vediamo in un'immagine di come sarà in game devo dire bello 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 fatto davvero molto bene qua lo vediamo invece con un uno zoom un pochettino più dettagliato e insieme al joker arriva anche poison ivy intanto vi ricordo che joker ha due stili extra uno dove è un po più trasandato e un altro dove ha il cappello insieme a tutto il vestito viola poison ivy e per terminare ragazzi midas rex mi sembra che si chiami in inglese anche lui una variante di mida ha uno stile personalizzato che è molto più bello di quello normale una specie di maschera d'oro gli viene messa sulla faccia e completa tutta questa specie di armatura nel bundle non è presente solamente il set di skin ma arrivano anche tre picconi e la scia questo che state vedendo alla mia destra è il pattern della scia ovvero sia si chiama pick a card se non ricordo male il nome appunto della scia si sono tante carte che vengono sparate a destra e a sinistra mentre scendiamo dall'autobus e queste sono le immagini che troverete sulle carte se riuscite a vederle quindi davvero molto molto bello un altro bundle in arrivo andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché la coppa di l'aclan oramai è veramente prossima pickax frinzi il nome in inglese che in italiano si traduce come piccone frenetico e dovrebbe essere appunto una torneo dove si gioca solo ed esclusivamente con il piccone non ci sono proprio tutte le regole ancora pubbliche ma abbiamo una nuova notizia una nuova ltm chiamata nickel è stata aggiunta probabilmente per far per essere utilizzata come prova preparazione per il l'aclan pickaxe tournament ci sono alcune delle abilità che vengono proposte in questa nuova ltm healing emotes quindi ci sono delle moto e che come già abbiamo visto tanto tempo fa nella knockout permettono di guadagnare salute semplicemente utilizzandole quindi ballando qualsiasi silent footsteps in modo per un modo per non farsi sentire dagli avversari no shield anche questo serve tantissimo per forse togliere lo shield forse qualcosa non lo sappiamo running faster with pickaxe quindi corre più veloce con il piccone e poi there will be supply drops probabilmente un quantitativo maggiore di drop però non dovrebbero rilasciare delle armi credo che siano dei drop dedicati anche lì solamente al healing o allo shield bisogna un po vedere questa invece ragazzi ufficialmente è la skin di l'aclan i migliori della torneo la otterranno in anteprima mentre poi per tutti gli altri bisognerà semplicemente shopparla nel negozio come vedete due stili per la skin una un po più dorata una invece più bianca arriva il pvr slicer che sono i picconi il piccone doppio il pvr pack che dovrebbe essere il backpack l'aclan ovviamente la skin e anche un emote dedicata un emote che sembra molto simile a quella che già abbiamo visto dove lui salta e tira il pugno per terra insomma ragazzi qua lo vediamo molto meglio la skin è veramente uguale all'aclan non vedo l'ora di vedere come si svolgerà questo torneo e se la community ne risponderà correttamente andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ovviamente ci sono anche degli aggiornamenti sul galactus come potete vedere se andate nella prelobby dove c'è il tavolo degli eroi è cambiato il segnale di allarme dedicato a galactus come potete vedere che è molto più pericoloso c'è un punto esclamativo gigante al centro sappiamo anche che arriverà un evento in questa season nel video della pace che ho caricato ieri vi mostro l'immagine del countdown quindi arriverà nuovamente un countdown forse olografico in cielo non lo sappiamo ma fisico in game di certo che stabilirà l'evento che ci porterà dalla season 4 alla season 5 se devo essere sincero io credo che il galactus in realtà lo vedremo forse nell'evento di transizione e ci porterà via parte della stagione 5 perché oramai manca meno di un mese alla fine di questa season non l'abbiamo ancora visto a meno che non fanno tutto velocemente in questa manciata di giorni ma c'han troppe robe in mente quindi secondo me tutto poi accadrà nella prossima season staremo a vedere curiosità nei file di gioco è stata aggiunta questa mini mappa che in realtà era già stata aggiunta tantissimi mesi fa ma che probabilmente avevano rimossa senza far vedere praticamente senza dare nell'occhio io so che era stata inserita perché ci avevo fatto il video è una specie di piccola mappa probabilmente per gli 1v1 ma se ne parla già da tanto quindi forse hanno semplicemente cercato degli aggiornamenti per capire se veramente potrebbe essere inserita come modalità di gioco magari anche solo in creativa l'1v1 e per terminare il video news questo è uno spaccato dovete guardare l'ultima immagine a destra è lo spaccato della skin di galactus quindi arriverà come skin in game mentre tutto quello che vedete sono i codici dedicati all'evento non ne sappiamo molto ma appena saprò di più lo saprete anche voi insomma ragazzi anche per oggi io vi ringrazio tanto per avere guardato le news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao